Prevenire e contrastare le truffe perpetrate nei confronti di persone anziane è l'obiettivo di un protocollo d'intesa firmato tra la prefettura ed il comune di Vibo Valencia nelle persone del prefetto Roberta Lulli e del sindaco Maria Limardo. L'iniziativa fa seguito alla direttiva del Ministero dell'Interno con la quale le amministrazioni locali vengono invitate ed incentivate economicamente a mettere in atto una serie di azioni che possano limitare il fenomeno delle truffe agli anziani o anche agli effetti delle stesse. Lo scorso 29 settembre, partendo da questi presupposti, per accedere al contributo dice in una nota della prefettura di Vibo il comune ha presentato un'istanza corredata da una scheda progettuale esplicativa delle iniziative che intende porre in essere. Il successivo 7 ottobre il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole al progetto ed il 10 ottobre la prefettura lo ha approvato. Il progetto del Comune di Vibo si sostanzia in tre punti fondamentali predisporre interventi formativi e informativi promossi dai servizi sociali territoriali attuare attività di prossimità con l'attivazione di un punto di riferimento presso servizi sociali comunali ed infine azioni di supporto psicologico alle persone over 65 vittime di truffe e raggiri.